ciao amici piccolo e veloce tutorial sostituiamo la batteria del telecomando del mio fiat freemont necessitiamo di una cr2032 a bottone a litio da 3 volt e niente ora vi farò vedere come si sostituisce ma è una cosa estremamente veloce togliamo la chiave non ci resta che fare leva e andiamo a sostituire la batteria togliamo l'isolante rispettiamo la polarità e richiudiamo e la batteria è sostituita ricapitoliamo sfiliamo questa chiave inseriamo una leva in questo punto andremo ad aprire e a quello appunto cambieremo la batteria vi ringrazio e al prossimo tutorial ciao a tutti